Il materasso Camellia, grazie alle sue caratteristiche, esprime al meglio l'unione tra natura e tecnologia, elementi progettati e realizzati per assicurare benessere e riposo eccezionali. All'interno troviamo l'esclusivo Memory Form Camellia, ad alta portanza ed elevata resilienza, con estratti naturali del fiore e della pianta Camellia. Lo strato di Memory Form Camellia ha una struttura monoblocco con aree a portanza differenziata, studiata appositamente per adattarsi alle 7 diverse zone del corpo. A supporto delle Memory Form Camellia vi sono altri 4 strati di poliuretano espanso a base d'acqua, ad alta densità, ognuno con diversa struttura e portanza, per garantire il sostegno ad ogni parte del corpo durante tutte le fasi del sonno. La formulazione esclusiva a base d'acqua permette ai vari strati di essere molto traspiranti. Grazie anche alla struttura cellulare aperta si crea una veloce dispersione di calore e umidità. Ogni singolo materiale è unito agli altri attraverso il processo di vulcanizzazione, uno speciale procedimento produttivo che consente ai componenti di fondersi insieme pur restando indipendenti, evitando così qualsiasi utilizzo di collante o agente esterno che potrebbe risultare dannoso per la salute. Attraverso la vulcanizzazione ogni materasso è prodotto singolarmente, garantendo i massimi standard in termini di qualità e prestazioni. La fodera del materasso in tessuto Camellia è impreziosita dalla gradevole fragranza del fiore di Camellia, rilassante e coadivante del riposo. Il filato in viscosa utilizzato per la realizzazione del rivestimento esterno è una fibra di origine naturale con proprietà ipoallergeniche e termoregolanti. Altamente traspirante dona freschezza al corpo, lasciandolo asciutto e rigenerato. Tramite una pratica zip è possibile sfoderare il materasso per poter lavare il rivestimento esterno comodamente in lavatrice. L'originale materasso Camellia della AFG Ibotiti è riconoscibile dalla superficie in memory form Camellia, personalizzata con il logo Camellia e dal ricamo del logo Camellia sulla fascia perimetrale. Per dimostrare l'elevata qualità del nostro materasso Camellia, abbiamo effettuato un test mettendolo a confronto con un tradizionale materasso. L'urto provocato dal lancio di un peso di 12 kg sul materasso si propaga per l'intera superficie. Con il materasso Camellia, invece, grazie al memory form ad elevata portanza e densità, l'urto è assorbito in un unico punto. Lo stesso accade quando, accanto a voi, vi è un'altra persona. Tutti i suoi movimenti saranno assorbiti dal memory form, non disturbando così il vostro sonno sereno. I cuscini sono dello stesso materiale memory form Camellia e li troviamo di due tipi, saponetta classica e orto cervicale massaggianti. L'essenza Camellia la troviamo anche nel suo pregiato tessuto di rivestimento esterno. Caratteristiche e proprietà certificate da importanti personalità e organismi di certificazione e riconoscimento anche del Ministero della Salute. Un materasso per la vita, quale presidio medico c'è?